buongiorno carissime amiche e il terzo giorno di natale il mio caro amore mi regalò terza sorpresa deve essere una sorpresa se ve lo faccio già vedere non è una sorpresa e allora oggi è il terzo dei 12 giorni di natale ed ho per voi una terza sorpresa un terzo addombo per il vostro albero di natale ma molto di più venite da questa parte e ve lo faccio vedere eccoci qua per questo semplicissimo progetto abbiamo bisogno del nostro cartamodello questo cartamodello sarà postato gratuitamente sulla mia pagina facebook country mammy ok quindi adesso mi posterò la foto così voi poi ve la scaricate ve la stampate e andrete a realizzare il cartamodello dovrete realizzare due foglie allora oggi io ho realizzato questo progetto in feltro perché molte di voi mi hanno detto di aver piacere di lavorare con il feltro e quindi useremo il feltro però spendo pochi secondi per dirvi che potete tranquillamente realizzare queste foglie di agrifoglio anche in tessuto scegliete il vostro tessuto verde lo doppiate dritto contro dritto con l'imbottitura al centro il foglio di imbottitura al centro andate a cucirlo sotto macchino a mano lo risvoltate e realizzate le vostre foglie noi invece lo faremo in feltro eccole qui le nostre foglie quindi abbiamo bisogno del cartamodello del feltro di tre palline rosse che rappresenteranno le nostre bacche del filo per fare il laccetto per appendere il nostro addobbo sull'albero e del filo e dell'ago per cucire le nostre foglie benissimo come vedete io per semplificare il vostro lavoro oggi ho cucito le foglie tra di loro con una semplice con un semplice punto filza una semplicissima filza ok ma se volete avete più tempo potete realizzare un bellissimo punto festone tutto intorno la resa è la stessa ok quindi cosa facciamo facciamo passare il nostro ago in mezzo al alle due foglie perché sono sempre in doppio e andiamo a realizzare con dentro e fuori dentro e fuori la nostra filza ok adesso la faccio tutta e poi vi faccio ripartiamo da lì ecco qui ho cucito quindi anche la seconda foglia e ho fatto anche sempre con la filza sempre con lo stesso filo anche le righe al centro per simulare la venatura della foglia adesso con un pochino di colla a caldo andrò a sovrapporre leggermente la prima foglia alla seconda va bene quindi metterò un po di colla a caldo giusto qui abbiamo la nostra colla a caldo mettiamo un puntino di colla e andiamo a fermarci le due foglie eccole qui allora prima vi ho detto è un addobbo per l'albero di natale ma può essere molto di più perché io pensavo che può tranquillamente essere utilizzato come spilla segnaposto o anche semplicemente segnaposto allora immaginate adesso poi vi farò vedere com'è carino tutto finito ma immaginatelo messo sul tavolo sul tovagliolo nel piatto di ogni commensale con la spilletta loro arriveranno prenderanno posto prenderanno la loro spilletta se la metteranno sul bavero della giacca o sul vestito insomma e sarà molto molto carino adesso andiamo a posizionare le nostre bacche per quanto riguarda le bacche allora se avete delle perline rosse vanno benissimo altrimenti in questo periodo in tutti i negozi anche quelli stranieri che vendono le cose a poco prezzo trovate questi rami di bacche le sfilacciate le tirate fuori a una a una e vi create le vostre bacchette ok allora la prima lo andrò a posizionare qui quindi metto la mia colla a caldo e posiziono la mia prima bacca ecco qua e poi metterò le altre due una di qua e una di là ecco qui ma non vi fa allegria l'agrifoglio io l'adoro ve l'ho già detto che avevo un albero di agrifoglio nella casa dove abitavo prima sì e lo desidero tanto una pianta di agrifoglio ma nessuno me la regala mai l'ho detto tante volte che desidero una pianta di agrifoglio niente niente allora prendiamo il nostro laccetto gli facciamo il sonito nodino così e andiamo ad incollarlo qui dietro e se ci piace possiamo anche mettere un fiocchetto in modo che venga in questo modo qui ok in questo modo per metterlo sull'albero magari se fate il segnaposto senza spillo lo fate lo stesso così chiaramente senza il laccettino se invece pensate di fare lo spillo magari io vi dico di non metterci il fiocchetto di fare una cosa più semplice insomma decidete voi come volete fare io adesso farò in questo modo quindi metto prima un po di colla per il nastrino da mettere dietro per il cordoncino da appendere dietro ecco qui state attenti sempre a non bruciarmi cosa che la colla con la colla a caldo risulta molto semplice e poi andiamo a mettere il nostro fiocchetto qui ok posizioniamo qui quindi un altro po di colla mettiamo il nostro fiocchetto lo rigiriamo e voilà abbiamo finito guardate com'è bello messo sull'albero di natale fa veramente una bella figura ma io vi dico la verità veramente anche sulla tavola di natale questo è proprio proprio bello se poi volete proprio esagerare sempre con il il feltro vi create un anello un anello su cui incollerete questa parte qui e ci infilate dentro il tovagliolo e quindi vedete quante belle idee vi ho dato oggi un progetto per un sacco di idee addobbo per l'albero di natale spilla portatovagliolo segna posto potete fare tantissime cose con un semplice ma raffinato ed elegante ormamento ok ci vediamo dall'altro lato per i saluti ed anche per oggi abbiamo finito facile e veloce abbiamo realizzato un bellissimo agrifoglio che potete sfoggiare anche come spilla bene allora io il mio agrifoglio vi salutiamo e ci vediamo prestissimo per un nuovo e simpatico tutorial ciao buona giornata